Sono arrivate dal Ministero della Transizione Ecologica dei fondi, esattamente 320 mila euro per la provincia di Pesaro Urbino, mirati alla prevenzione sul dissesto idrogeologico e l'erosione della costa. Noi abbiamo deciso di finanziare due progettualità, una su Pesaro per 90 mila euro per delle casse di espansione a chiuso di genestreto, in modo che si possano prevenire delle piene del fiume Foglia che possono apportare poi del rischio all'interno della città, nelle zone abitate e nelle zone industriali. Un altro importante intervento invece noi lo prevediamo a difesa della costa in tutta la parte nord del litorale di Fano, dal porto fino a Fosso Seiore. Ci sono diverse situazioni di criticità in quella zona, di scogliere emerse che però sono ormai obsoleti in parte sprofondate, di alcune aree, la spiaggia dei Fiori e queste zone di fronte a Gimarra dove ormai il mare arriva spesso a ridosso della ferrovia e portare anche danni alla ferrovia stessa. Quindi su questo punto di vista noi mettiamo in cantiere 233 mila euro per la progettazione complessiva di quel tratto di costa, che sono diversi chilometri, in modo che una volta avuto i progetti definitivi noi potremmo poi accedere ulteriormente a fondi per via via portare a quei correttivi e quegli interventi necessari in quel tratto di costa. Quindi ecco un'attenzione molto particolare, molto lungimirante per quel che riguarda la difesa della costa nella parte nord della città di Fano e lenire il rischio idrogeologico per quel che riguarda l'esondazione possibile del fiume Foglia all'interno della città di Pesaro. Da sempre io lavoro per prevenire piuttosto che curare. Rispetto a quanto detto sono anche a rinnovare, visto che i giorni scorsi sono partiti i lavori nella zona sud di Fano per il salpamento delle scogliere in zona dalla foce Metauro fino a Metauriglia, sono ripeto a rinnovare l'impegno della regione Marche per gli ulteriori 4 milioni che metteremo entro quest'anno a bilancio a favore del secondo stralcio sempre per quell'intervento, perché sappiamo benissimo che il primo intervento arriva dalla foce del fiume Metauro a Metauriglia ma non interessa direttamente gli stabilimenti balneari lì presenti, invece il secondo stralcio sarà proprio a favore del salpamento e del rifacimento complessivo delle scogliere anche di fronte ai vari stabilimenti balneari che oggi soffrono di questa mancanza di spiaggia avendo le scogliere proprio a ridosso e vicine alla ferrovia.